La sfida fra Cesena e Messina si riduce a tratti nel confronto fra Moscardeglia e gli avversari e dell'attaccante bianconero ad avere la meglio in una giornata in cui definirlo solo e semplicemente un centravanti è assolutamente riduttivo. Fra Giallorossi manca ancora Biancolino ma torna a Capitan Parisi, Babassori fa esordire dal primo minuto il portiere brasiliano Arthur ma non può contare sul neoacquisto Paolucci squalificato e tiene in panchina l'altro nuovo arrivo Gennaro Esposito. Pronti viede subito gol, Moscardegli parte verso la porta di Petrocco e Strin prova ad intercettarlo, l'attaccante cade in aria e per il signor Marelli non ci sono dubbi è calcio di rigore. Le immagini mostrano il contatto fra i due e certamente un rigore conquistato d'esperienza da parte del centravanti bianconero che con la gamba di richiamo tocca per Strin. Dal dischetto ci va proprio l'ex attaccante dei Rimini e non sbaglia il suo undicesimo gol in stagione, quello che dopo neanche due minuti dal fischio d'inizio regala al Cesena una gara tutta in discesa. È solo l'inizio della sontuosa prestazione di Mosca che nel corso della gara diventerà l'autentico spauracchio del Messina, non solo della retroguardia ma di tutti i calciatori in casacca giallorossa perché nella seconda parte del primo tempo Moscardegli si trasforma da centravanti in uomo assist, in questo caso per Daniele Croce che si trova davanti un attento Petrocco. Poi è di nuovo uomo area e svetta prima degli altri ma senza fortuna, ciò che appare strano è che la squadra in difficoltà ha esattamente il doppio dei punti in classifica rispetto alla banda Vavassori al momento ultima della classe. Moscardegli non si ferma mai, è anche ispiratore di azioni spettacolari e sulla destra il binomio Salvetti-Campedelli è davvero incontenibile. Il collettivo peloritano sembra lo smando, condizione che non è possibile attribuire unicamente all'assenza del bomber biancolino. In fase difensiva Parisi è costantemente in difficoltà, meglio quando si spinge in amanti e riesce a mettere al centro palloni interessanti. Peccato che il primo degno di nota arrivi solo dopo la mezz'ora e Foti non ne riesca ad approfittare per come potrebbe. Un po' come Daniele Croce che sul finale di tempo non sfrutta al meglio il lavoro della premiata ditta Campedelli-Salvetti e sciupa per la seconda volta una ghiotta occasione per chiudere la prima frazione col doppio vantaggio. Nella ripresa il Messina parte discretamente, usa maggiormente le fasce ma lascia a desiderare quando è il momento di capitalizzare il gioco. Vavassori vuole più attenzione dai suoi uomini ma i peloritani anche a causa della scarsa intesa tra Foti e Degano non riescono a pungere. L'unico di impensierire la retroguardia romagnola è Cordova. Nel frattempo Daniele Croce resta coerente con i suoi primi 45 minuti e sbaglia la sua terza grande opportunità della gara per assicurare ai suoi il raddoppio. Chi è sempre vivo è Davide Moscardelli che in fase di non possesso diventa automaticamente il quinto centrocampista del Cesena ma appena ha l'opportunità torna in mezzo all'area di Petrocco alla ricerca della doppietta per festeggiare al meglio a mezzanotte il suo ventottesimo compleanno. I giallorossi provano a far male soltanto negli ultimi dieci minuti e vanno anche vicini al gol se in qualche occasione non hanno dalla loro la deabbendata. In altre si trovano il brasiliano Arthur, primo portiere straniero nella storia del Cesena, a blindare la porta con attenzione. La banda di Costanzo trova così la seconda sconfitta consecutiva dopo lo stop casalingo con la Triestina. Oltre a rientro di Biancolino il Messina ha bisogno di ritrovare lo spirito giusto. Il Cesena invece lascia finalmente quel pesantissimo ultimo posto e ricomincia a sperare nel futuro. Babastori adesso può interpretare il girone di ritorno con un po' più di tranquillità e con un Moschardelli così si possono dormire sogni tranquilli. E noi Davide Moschardelli, il match winner della sfida della Manuzzi per il Cesena, lo abbiamo piacevolmente in collegamento telefonico. Ciao Davide! Buongiorno a tutti! Ciao Davide, innanzitutto complimenti. Senti, al di là della tua solita ottima prestazione perché ormai ci hai abituati a tutti bene, ci hai anche arrivato a 11 gol. Oggi Forza si è visto uno dei migliori Cesena della stagione anche se non siete riusciti a chiudere il risultato. Ma sì, sicuramente, soprattutto nel primo tempo abbiamo creato molto, siamo stati anche fortunati e anche bravi a sbloccare subito il risultato. Poi abbiamo creato anche altre palle gol abbastanza importanti, sia anche Ositessa, anche Croce. Quindi abbiamo creato tanto. Sì, dovevamo essere un po' più cinici, ma l'importante era la vittoria, quindi siamo contenti per questo. Ciao Davide, complimenti e mi permetto di essere, credo, il primo a farti gli auguri. So che domani è il tuo compleanno. Ti chiedo, no, la domanda è non solo al centravanti, questo lo sapevamo nel giro dell'andata, ma al trascinatore e al leader di questa squadra. Quanto senti tuo in questo momento il Cesena? Come scusa, non ho capito. Quanto senti tu alla squadra? Cioè ti ho visto oggi una prestazione non soltanto da centravanti, ma... Ma sappiamo che la nostra situazione è un po' particolare, quindi c'è bisogno di sacrificio di tutti. Quindi in un senso sì, è un giocatore importante, ma il leader mi sembra un po' grande. Però c'è sempre di dare una mano alla squadra, anche in difesa, anche perché sono un giocatore a cui piace variare molto il gioco, non essere solo fermo lì davanti, essere più participe in tutte le azioni, anche quelle difensive quando serve. Senti, quanto e cosa è cambiato dall'inizio della stagione e dalla precedente conduzione tecnica a questa e quali erano i problemi di prima risolti adesso? Sembrerebbero risolti, perché insomma questa, non nascondiamo, è una delle migliori prestazioni del Cesena di quest'anno. Sì, sì, ma i problemi sicuramente non sono risolti. Abbiamo fatto un passetto in avanti, però sappiamo che una partita vai giù, un'altra partita si dipiti di su, quindi dobbiamo stare attento. La cosa più importante è dare continuità ai risultati, quello che ci è mancato forse prima, quello che cercheremo di fare da adesso in poi, perché con la continuità dei risultati sicuramente potremmo arrivare alla salvezza. È quello che ci manca in questo momento. Davide, per te c'è una domanda di Alfredo Pedullà da Roma. Sì. Buonasera Davide, complimenti. Buonasera, grazie. Volevo chiederti, ma tu fai tutto, sei una seconda punta che sa far bene la prima punta. Nel servizio dicevano che dai una mano al centrocampo, ma non ti aspettavi, non è una polemica, una considerazione, una mano d'aiuto dal mercato di gennaio, prima cosa. Seconda cosa, il rigore che ti han dato, sinceramente, l'hai voluto, l'hai cercato, l'hai conquistato con il mestiere, c'era sacrosanto, mi dai un tuo parere velocissimo. Il compleanno dove lo festeggia, Roma? Com'è? Sì, il compleanno dove lo festeggia, Roma, sì, sì. Sentivo di nuovo di sottolineare. Ma il tuo rigore, posso dire che ho vinto un primo rimpallo e sono stato fortunato, poi ho cercato di puntare per il film che l'avevo visto, che l'arrivata era abbastanza fermo, quindi ho cercato di saltare in velocità. Lui non ha fatto niente per sottolinearti, perché, vabbè, non poteva scontare, però anch'io ero sullo slancio e il contatto era inevitabile, quindi il contatto c'è stato, poi l'ho trovato il rigore. Ma per quanto riguarda il tuo sacrificio tattico, insomma, fai tutto tu, ti muovi su tutto il fronte, mi sembri da doppio ingaggio e domani parleremo col Presidente del Cesena, perché mi sarei aspettato dal mercato di gennaio una mano d'aiuto per te. Ma a mano d'aiuto è arrivato Babone, abbiamo scoperto questo diurice che ce l'avevamo in casa, adesso rientrerà anche Ferresti, quindi davanti sono tutti giovani, ma sicuramente hanno voglia di evitare e di mettersi in mostra, quindi quello è importante. Diciamo, le scelte del Presidente sono state queste del mercato, e noi cercheremo, spero, anche cambiare totalmente o troppo, poi potrebbe essere un po' deleteri, quindi... No, io immagino, scusami Davide, io immagino il Vicenza con Matteini, Svok, Zampagna, cioè per carità, stai parlando di giovani promettenti e Paponi promettenti. Sì, sì. Però io credo che quando devi salvarti, forse qualcosa in più a livello di esperienza possa servire, ma probabilmente mi sbaglio io. Ma questo sarà il campo e saranno i risultati, a dirlo. Esatto. Sicuramente c'è una squadra che si stanno rinforzati, prendendo i giocatori anche un po' più di esperienza, quello sì, la nostra situazione, come diciamo adesso, siamo convinti, facciamo una situazione che è particolare, che sarà difficile, ma il nostro impegno sarà sempre al massimo, l'abbiamo dimostrato oggi. Grazie. Ti ringrazio, io in chiusura ti voglio chiedere una cosa, tu hai fatto benissimo anche negli anni che è trascorso a Rimini con il conducatore Leonardo Acori, però a livello realizzativo sembri essere tornato a quello dei tempi di Trieste, sbaglio? Ma no, i numeri dicono quello, sicuramente quest'anno, per esempio, due anni e mezzo non facevo più di tre o quattro partiti di seguito, fino ad adesso ero fatti tutte, quindi quello più giochi e più prendi condizioni fisiche, più confidenza con i compagni e con il gol, quindi quello sicuramente è una cosa più giochi e più hai possibilità di andare in gol, quest'anno sto cacciando anche i rigori, quindi la fase realizzativa è un po' cresciuta. Grazie Davide, buon campionato con il Cesena ovviamente e soprattutto buon compleanno.